Ripristinata regolarmente tutta la viabilità cittadina a Teramo, ad eccezione di Ponte San Gabriele, i cui lavori più complessi devono essere ancora ultimati. Gli interventi che hanno determinato provvedimenti adottati nelle settimane passate sono in fase di ultimazione e il loro avanzamento ha però permesso di poter riattivare la regolare viabilità. I flussi di traffico veicolare sono tornati quindi alla normalità nella zona di via Po e strade interessate dalla sistemazione della rotonda all'incrocio con via Fonte Regina, un'importante boccata d'ossigeno soprattutto in vista della riapertura delle scuole. Sicuramente la tempissima e il tempo che abbiamo impiegato dal 23 agosto ad oggi per poter riaprire il traffico e la viabilità è un risultato importante che sicuramente segna una demarcazione rispetto probabilmente non dico al passato ma ai lavori che normalmente si fanno nei lavori pubblici. Il risultato finale ce lo diranno i cittadini transitando su questa strada adesso quasi con i lavori quasi completati non ultimati perché saranno delle lavorazioni che saranno fatte diciamo a margine della riapertura del traffico. A preoccupare la condizione legata a Ponte San Gabriele di competenza ANAS le cui tempistiche probabilmente non verranno rispettate ma si arriverà a fine mese o entro i primi giorni di ottobre per la riconsegna della parte superiore del ponte. Era importante perché abbiamo un cantiere così importante su Ponte San Gabriele che già di fatto complica diciamo la vita normale di ogni cittadino con questi lavori che si aggiungevano era diventato probabilmente una cosa ancora più complicata e difficile. Oggi con la riapertura al traffico anche se mancano ancora dei lavori come la segnaletica non solo la segnaletica però riusciamo a ripristinare una normalità che era quella antecedente all'inizio di questo cantiere. È un risultato importante che secondo me segna una riqualificazione totale dell'intera zona stiamo completando alcune lavorazioni ma voglio dire che saranno fatte dalla ditta all'esterno dell'area transitabile o quantomeno con percorsi che saranno protetti e che non andranno ad incidere sulla viabilità. Grazie.